Io faccio la cacca quasi tutti i giorni, sì, credo di sì. No, che cos'è che resta niente? Akali Evelyn Ban, please. Puoi blind piccare? No. Molto rischioso. Perché siamo in win streak. Ma poi non blind picco mai. Se blind picco prendo... Rakan. Bard è broken blind. Però non lo gioco benissimo. Non me lo giochi male. Non benissimo è abbastanza... Ringrazio che l'hanno bannato, sennò devo prove you wrong. E' vero, blind avevo un autos qualche mese fa. E' vero. Però se c'è bravo ti spari in testa. Carmetta. Midline forse. Dici. Mo' l'ha giocato dappertutto. Di carri, mid e top. Non si può leggere. Ristan di carri, mi piace. Però, cos'è il problema qua? Secondo te, a leggere questa team comp, qual è il nostro problema? Tutti squishy, cazzo. Sono tutti a D, king. Ah, sì, è vero. Ah, è carista di carri. Ok. Potremmo giocare X-Heraf. Però se prendo X-Heraf è quello che ha preso Calista e mi spari in testa. Ma dai, X-Heraf, Paolo. King è forte qua. Ci serve AP. E li outrangiamo tutti. Ci ammazza solamente Ari. Ma Seraphine? No, dobbiamo andare comunque in gauge perché quello ha preso Calista. Tu hai preso Blitzkrank contro X-Heraf. E che gli manca? Col grab lei non ti countera con l'ulti. Tox 777777 gifted a tier 1 sub per carri. Ma cool, lei prema i 150 secondi. Portiamo a casa. No. Tox, grazie mille per il regalo, king. Anche ho giocato a Blitzkrank la vita, non so più come cazzo di gioco questo campione. Che cazzo. Ah, ho giocato 5 partite. 3, 4. Però l'ho giocata male la prima partita di oggi con Blitzkrank. Ero un po' distratto. Tipo, oggi ero distratto. Ho giocato i primi 5 minuti distratto. Ho detto... La tua prima partita fa sempre cagare. No, al inizio... Un po' ti ricordi di... Almeno quando venivo a seguirti, ti venivo anche in Clash. Allora... Nella prima partita era sempre un disastro. Allora, grabbo, grabbo come si chiama? Grabbo Gianna, un grab della Madonna che lì è ma livello 1. Poi Grichillo di nuovo. Lain in face finta. Da quel punto ho smesso di giocare. Comunque come vedete è karma top. E mi sa che conta la morte casa. Ma l'avevo già vista perché Rakan non poteva essere... Sì. Può essere tutto, no? Oh! Gioggiando? Eh, era l'unica. Provi? Sì, provaci. No, ci provo. No. Tu sempre hai 2 wards. Ma stavi sempre a te. No, però mi è sembrato un atteggiamento... Passive-aggressive. Mutato, subito. Gli lasci i ping perché è il jungler. Cazzo è il jungler. 29, Selina. Il secondo è il jungler. Ma è la sorella il buff, hai visto? La sberla... Un sezione HP. Top, secondo me finisce male. Bottila e un po' carriare. Midian potrebbe tranquillamente morire che c'è aria, eh? Senza flash. Qua direi un bel lavoro. Tutto ok, non c'è nulla a fare. No, poi danno, ovviamente, apri. Hanno due range. Carizzo sta fermando forse se lo dita non troppo lei. Ma te ora non l'ho usata. Sì, la tranquillo. Ho sbagliato lei, ha sbagliato qualcosa? Allora, guarda che non c'è una botta di qua, eh? Ok, è andata a botta. Hai flash. Allora, uccide. Ah, sì, vince il mio. Ok, è morto. Il tempo passa peggio. Ok, però non c'è la botta. Ok, è morto. Non mua, eh? Non mua, non mua. Ah. Allora, matt. Allora. oh oh mamma mia ooo 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 non brutto per disperare forse l'ho addirittura in carno ma guarda come batte la wave se si suggera a 6 saio ooo 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 ci siamo messi bene wave stabile è missa la botta occhio là il loro jungle dovrebbe essere qui tutto ok loro lo dovrebbero aver regolato cioè dobbiamo crescere forze top perde aggettivo poi c'è un buco forse ah la ferma con lui allora non vuole non vuole grabare quatt'affan muore? eh si è morto uccidiamo l'ho 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 il che l'ho io volevo venire assolutamente sì aspetta c'è qualcuno qua che ci vuole oh lo perdono ci abbiamo di swiftness pink andiamo a top lane non ci vanno a bollire ad andare a top lane mi sa di sì è intuito non vado mai a top lane però queste lecce sarà da bollire No, useless Moriva Morire moriva Cringiato Guarda dove è grave Non ce l'ho è grave Non ce l'ho è grave Doggia, doggia, doggia Che l'avevo affatto i gnocchi Menomai che ho arrombato top lane Frozen non è male Però hanno anche tantissimo AP Secondo me Frozen straight Sbagliato Però c'è un pezzo di armature E poi mi chiudo il locket Cioè Perché questo pezzo Blitzkank è Sbroccatissimo Questa giocherà per la placca E grida Vaffanculo che ti pesa Mi arrabbio quando mi avversi Oddio E sono morto Non c'è un ingaggio che abbia senso Non c'è qualcun altro Lo doggia uno schiccio o difficilissimo? Eh era probabilmente buonissimo Abbiamo ucciso Ksaya Ottio Lei non c'ha la ult Quello potrebbe neanche entrare Ma non ci vuole È un buon trade Ecco Bentornato Snellina Il secondo è più importante Direi bello C'è un buco C'è un qualcosa Ah Buon king Grazie Senti ma io posso? Sì Semplici Sì Ho visto l'ult xia? Mmmmmmm Faccio ricaricabili pink Cambiamo il trink Questo è un bel back Non è un gran back eh però Hai anche i biscotti Perché ho un acquisto che costa pochi soldi Un'alternativa non c'ero Forse armatura per il locket Sono morto Più che altro non dovremmo giocare Se non c'abbiamo il jungle Ragazzi questo è morto Bene insieme Ci sono facendo schifo però Quello muore Di ultimo morto Cos'è rafferci Warf Non muore Non vediamo Questa è il mio D'accordo E' bella D'accordo E' bella Questa è un pescollo D'accordo Questa è un pescollo Come dice ella Una lo sappiamo il danno di blitzkank si lo so tra l'altro hai avuto anche fortuna che penso per me no lo sapevo che non la grabbavo sottotorre e lo sapevo che non la grabbavo sottotorre e l'ha messo in conto perché non riuscivo sarebbe stato il top ma non l'avrei grabbato fatti il tale poi ti ammazzare così il support dopo che pensi chiesa ma... chi è? palio a mio palio che palla no almeno mmm abbiamo fatto un po' di vaccini stupide mi sono si c'è... c'è un buco ha perso stiamo reddando c'è Arimob c'è il locket mi senti 150 per dire che siamo lontani questo è un more call c'è un pieno di soldi ora uno diceva se non avessi fatto questo avremmo già chiuso il locket è vero però secondo me questo è molto forte perché bot side sono molto anti-oriented il frozen ce lo faccio anche se forse ha la pista non è buona se muovi di nuovo così dimmi incazzo ora abbiamo direi non muoio aia c'è un buco oddio levate sicuramente i capelli muore ma sì hai ultato e poi scappi che vergogna forse ammazza no silenziato che truffa è è silenziato ma che buono è un culo non è manco male no no ciò c'ho il frozen ciò c'ho il frozen ciò c'ho il frozen ciò c'ho il frozen dai qua perdono tanto perdono torre mid non la perdono vabbè ma poco ci manca c'è questo c'è questo voglio giocare con i pezzi ma ti stava ucciso secondo me no ci dobbiamo sbagliarmi cazzo c'è l'aralto la prende la prende tutto quindi non voglio giocare a l'aralto ok alista muore col questa non muore questa è morta madre di dios c'è un buco non posso giocare qua ma non non è vero, non è vero è vero, è vero oh no è vero, è vero non ti aspettavo anche tu no cazzo a me sembra un facile subendo qua però poi li avete spaccati eh e senza calista spappolati li avete eppure tu dovresti aspettare i livelli che sto giocando no dico il grab su carmelo vedi che lo stai preparando no dico dal vivo pensavi che l'avrei missato dai non mi fai il nervosire sbrocco si dice così arrabbiati ahhhh 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 per fare il querezzo muore lei è morta non muore perchè lo devo giocare fare il cazzo che vuole aprire io lo voglio aver tolto 300 HP in un istante in realtà secondo me sono falsi amici perchè comunque stai giocando off tempo si è vero è vero il drago il drago giochiamo per l'eraldo no adesso giocco in autopilot perchè è troppo eh morì una kill è quasi è quasi finita è quasi finita si insegna anche più certe volte questo è difficile non può mettere manco un nano nel suo giardino un po' di strada e non andare in autopilot anche te eh sei 1 3 3 10 si potevo il tardi cazzo ahhhh veramente qua noi un po' di strada che non è stato lo stesso c'è un po' di strada non c'è bisogno di sorrendare c'è il bagno scendi le scale al lato sinistra c'è la cucina vai avanti c'è il bagno dove c'è il buco quindi non vai in cucina vai in bagno vai nel buco oh meno una al challenger con pipì di alberto michael albert meno una ma siamo veramente a meno una ragazzi e meno due e meno due